Gilealatre è uno strumento, una campagna informativa che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni sul problema della ampia riflessione della povertà a seguito della crisi economica e della disuguaglianza che c'è in Italia ormai da almeno 10-15 anni. La promuove il gruppo Abele, la promuove Libera, la si vuole ampliare anche come adesione a tante altre associazioni che ci stanno. Il vero obiettivo è insieme alla campagna Miseria Ladra mandare avanti anche un'iniziativa di coordinamento dal basso numeri pari, si chiama, e mettere insieme tutte le associazioni, il mondo del contrariato, tutte le amministrazioni che ci stanno per cercare di sperimentare iniziative di contrasto. Grazie.